È già giorno di Juventus-Ajax, sembrava tanto distante la partita invece con solamente una settimana a disposizione ecco qua, siamo già arrivati, non lo so, ho una strana sensazione addosso con l'Atletico ero convinto di passare il turno sicurissimo e partivamo da un passego di 3-0 era difficilissimo recuperare tre gol, invece qua veniamo da un risultato positivo e non lo so, c'è qualcosa che mi lascia un po' perplesso, spero che sia solamente una sensazione mia e di non dover dire cacchio, lo sapevo, me lo sentivo poi sono andato a prendere a cappatoio perché un po' uso pranzo e si va in palestra come al solito tutti i giorni, Cristiano Ronaldo Challenge, cura attiva, ragazzi la vinco cos'è che fischia l'arbitro? Fabio, quindi? 2-0 Cristiano Ronaldo e Moise Kev Quindi è semifinale? Sì, sì, ma io te l'ho detto, è arrivato in finale E poi non si sa Poi te lo dirò Va bene, credo che sia giunto il momento qua lo dico e non voglio negarlo se la Juventus vince la finale di Champions quindi se stasera passa, supera anche la semifinale arrivi in finale e vince la finale di Champions League mi raso, non mi raso a zero ma mi raso completamente mi raso, mi raso e guardate che capelli ho mi raso, ma la Juve deve vincere la Champions la Juve deve vincere la Champions Sì Sì Sì! 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 Io avevo guardato tutto che faceva il movimento sulla lunetta! Sì! Che bello! Che bello che sei! Che bello che sei! Lo hai messo da supersignare! Sì! Sì! Ma no! Ma no! Ma è caduto dai! No dai! È venuto giù da solo! Ha spinto Delit! 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 Dai dai dai! Avanti! Lo spinge Delit! Ma dai! Lo spinge con due mani! È gol! È gol! Ma cosa no! È gol! Buon gioco! È buono! È buono! È buono! È buono! È buono! È buono! Non siamo saliti! 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 Ecco le voci del tunnel Noe Noe Ma cosa hai imparato Ma cosa hai imparato Ma cosa hai imparato Ma non mi ha E' vero Stato guardando Chi sa perso la marcatura Lui è staccato molto bene Un ragazzo che ce l'aveva provato anche prima Di solito E' sempre i tuoi centrali Che a turno andava Proprio ad ingabbiare Su queste situazioni da fermo Lui parte Trova il tempo Guarda che in mezzo a due Sono essenzialmente Perché si andava veramente Con una grande forza e venenza E la mette dentro E finisce qui L'Ajax batte a termine E' anche una splattera partita C'era una meravigliosamente Nel secondo tempo Lario Ventus Lo sport è questo Quando gli avversari E' anche una Grazie a tutti.